Viaggio in aereo penso In Serie A lo vedresti bene No No ma più che altro sarebbe strano Ma pure in Francia ma in qualsiasi campionato Cioè lì è qualcosa proprio da Vabbè ma in Turchia dobbiamo un attimo sistemare Secondo me internamente Sono scene che non si possono vedere Però quanto sono romantiche Quando vedi quello con la bandierina Che è partito per dargli un test al giocatore Ma hai visto il murales che hanno fatto Che c'è il giocatore del Fenerbahce ora Non ricordo il nome Che picchia il tifoso Gli hanno fatto il murales Che ho scritto Fight like your fans Una cosa del genere è bellissima Amici sportivi Ciao a tutti amici sportivi e bentornati nel Tempio dello Sport Io sono Niccolò Cecchi e qui al mio fianco come sempre c'è Andrea Di Belardino E come stai quest'oggi? Nel Tempio lo sai come si può stare solo che bene Nel Tempio stai bene Già che stai qua Già che c'è il cartellone E oggi ragazzi Oggi non cadrà Non può cadere Oggi non cadrà Cioè sono pronto a scommetterci I soldi Oggi non cade E per le prossime volte non cadrà mai più Tra l'altro poi ce ne sarà anche un altro Quindi si sta bene Si sta bene Allora oggi facciamo all in Però prima di partire Ricordiamo ai nostri fantastici amici sportivi Di seguirci ovunque Instagram, TikTok Iscrivetevi al canale YouTube Se volete ci potete anche ascoltare su Spotify Amici Sportivi Podcast Allora Da cosa vogliamo partire? Da quello che vuoi tu ti direi insomma Mi lasci così In realtà oggi abbiamo preparato Oggi si è stata una puntata molto Oggi improvvisiamo Un momento Però direi Vista un po' la classifica Ragazzi Siamo alla trentesima giornata Di partire dalla Salernitana La Salernitana ormai ci ha salutato Gli ha fatto voce aone Siamo alla trentesima giornata Io direi il Bologna Quanto a meno due Dalla Juve va menzionata Va menzionata Non l'abbiamo forse mai messo in copertina nessuno del Bologna Dici? Non lo so Non lo so Guarda io però ricordo che era Forse la decima giornata Facciamo un resoconto del Quanto al Bologna? No Avevamo detto tipo il Bologna pareggia e basta Che era la squadra forse che aveva pareggiato Di più con Torino e Udinese forse Perché aveva perso la prima che era tipo il Milan E poi aveva solo pareggiato Aveva tipo sei pareggi nelle prime Poi ha iniziato a vincere E poi insomma ha continuato a vincere Quarto Alla fine Ma infatti ti posso dire che Cioè io spero che Io tifo il Bologna in Champions Oh sa meno due dalla Juve Poi qui c'era la classifica Sì Degli anni Scorsi Sì passati ma partendo dagli anni 60 Il Bologna non era in questa posizione dal 67 Eh sono anni Eccolo qua Nel 64 l'ultimo scudetto Nel 67 terza e poi ma è più quarta Sempre posizioni Che comunque da metà classifica E così via Però il Bologna Ma anche perché io credo che comunque ogni anno Il Bologna parta con L'obiettivo minimo della salvezza Sì sai quella metà classifica tranquilla Una classica squadra tipo Torino Sì E poi magari se riesci va in Europa Però l'Europa è la conference Certo E l'Europa League se ti dice bene Ma la Champions Sì sì Vabbè secondo me ora è lecito E giusto aspettarsi il piazzamento in Champions Cioè sei arrivato a questo punto Sì sì Capito Però se dovessi entrarci A parte sarebbero bei soldi Certo In quel caso vai a fare un'estate quasi da protagonista Eh beh non so perché Cioè non puoi smantellare la squadra No allora lì dipende il progetto che c'è dietro la società Io credo che siano stati tutti presi un pochino alla sprovvista Nessuno si aspettava Capito quindi Sono cambiati i piani in corsa Dall'altra parte comunque c'è stata secondo me una valorizzazione Di quei giocatori che stanno un pochino trascinando il Bologna Vedi Calafiori Sì Nessuno si sarebbe aspettato Ma quello stesso Orsolini Ci è sempre stata una scommesa Sempre tutti a dire Però quest'anno poi è esploso Mi dice esploso proprio Ancora cioè a me No Vabbè no nel senso è sicuramente Rispetto agli anni passati Gli anni passati c'era molti più errori Sbagliava molto di più No no è vero è vero è vero Mi sono sempre preso pure più responsabilità È esploso Zirze Zirxè Ferguson Insomma anche lo stesso Salemakers Salemakers È tanta roba lì Quindi sì Ma senti un po' Ma quindi no Perché poi Bologna Tiago Motta Che sta in copertina Tiago Motta E qui Rimane Viene un pochino spontanea la domanda Perché se facciamo il confronto con l'altro allenatore Che è esploso in questa stagione Ossia Ciabialunzo Ah ok All'Everkusen Hai visto no Negli ultimi giorni è uscita un pochino la notizia Che pare che rimanga Ha detto sì All'Everkusen Se tu fossi Tiago Motta Perché lui già l'anno scorso doveva in teoria lasciare Bologna Ti posso dire che io non sono mai stato un grande stimatore di Tiago Motta Sì mi sa che già me l'avevi detto Non mi ha mai fatto impazzire però dopo questa stagione Vabbè comunque nel senso Se porta al Bologna in Champions Io penso che anche il suo più cerrimo nemico Però l'unica cosa che secondo me sarebbe stupido da parte sua andarsene in questo momento Cioè è vero che te ne vai da quasi vincente Perché arrivare in Champions con il Bologna è vincere uno scudetto Sì E fare meglio è quasi impossibile Perché pure se dovessi andare in Champions Ok bello Però pure in Champions Inizia a sfidare squadre Insomma Considerando come può essere la Champions dell'anno prossimo Che affronti i giochi 8 partite nel girone E il Bologna sarà penso in quarta fascia Perché non è da punti Sì sì e ce n'ha almeno due della prima fascia E quindi insomma non so come te puoi gestire Secondo me sarà il confronto con la società a decidere Perché allora cioè il discorso tuo non è sbagliato Io lo condivido no Ma più che altro dico È una cosa che ho costruito io insieme alla mia squadra E ora la Champions la gioco io insieme alla mia squadra Sì però così ok Se invece già parli con la società e ti dicono E magari vendono quelle due tre pedine E poi te li ininforzano un 7-8 giocatori Eh lo so però è probabile Molto probabile però a quel punto Eh non lo so È vero anche che comunque un Tiago Motta Il prossimo anno potrebbe giocarla ugualmente La Champions in una big Eh io proprio intendo a livello di soddisfazione personale Una cosa che ho costruito io insieme ai miei giocatori In una piazza che abbiamo detto Non arriva in quel piazzamento dal 67 Eh e ora me la godo io capito Sì sarebbe molto romante Dall'altra parte te ne vai da vincitore Che abbiamo visto che negli anni secondo me Chiudere e andarsene da vincitore Non è non è sbagliato E non fare come chi si protrae Eh sì vabbè ma all'ultimo esempio può anche essere Mourinho Insomma poi c'è chi la vede in un modo e chi in un altro E vabbè comunque per il momento Cioè stiamo mangiando il Dall'Ara pieno per una notte da Champions Eh beh ma è giusto È giusto così infatti non ti nascondo Che potremmo andare anche noi a Dall'Ara Una bella partita di Champions Ma scusa tu metti Bologna-Real Madrid O Bologna-Manchester City Bologna-Bayern Monaco Con un Bellingham e ti fa così sotto la somma del Bologna No e poi appunto se la filosofia rimane questa E di gioco intendo Chiaramente ora il Bologna Non so quante possibilità abbia di battere il Bayern Monaco Real Madrid e il City e via dicendo Però se la filosofia di gioco rimane questa Tu vedi anche belle partite in Champions Perché il Bologna in Serie A ha dimostrato quest'anno Di non aver paura di nessuno E anzi è stata l'unica che negli ultimi tre mesi È riuscita quasi a battere l'Inter Senti ho una domandona per te Allora Coppa Italia Ieri sera Questa sera Perché registriamo ora Però la partita si sarà già giocata Tra Fiorentina e Atalanta Quindi saprete Sapremo già il risultato La Juve ha vinto 2-0 E secondo me ha un piede e mezzo In finale di Coppa Italia Tra Atalanta e Fiorentina Per me le possibilità sono Anzi le percentuali sono 70% Atalanta 30% Fiorentina Di arrivare in finale Poi vedremo insomma magari domani Quando la puntata già sarà uscita 4-0 Fiorentina Esattamente Ora che l'ho detto È più che possibile Però quello che voglio chiederti A questo punto Allargare anche la questione Allargare il dibattito È giusto pretendere Un trofeo Da parte di Gasperini Da parte dell'Atalanta Lo sai che Nella conferenza Gasperini ha detto Che la Coppa Italia È il trofeo più accessibile Per una squadra come l'Atalanta Perché comunque sia Una squadra come l'Atalanta Non può competere Per lo scudetto Ha spiegato Di fronte a squadre Che hanno un monte ingaggi E sono più strutturate E quindi la Coppa Italia È il torneo più facile Secondo me Gasperini Sotto sotto C'è l'ala Voglio almeno di alzare un T Cioè Almeno di dire Però potrebbe essere Giusto aspettarselo Cioè nel senso Come se Un obiettivo Secondo me sì Arrivati a questo punto Dopo tutti questi anni Comunque l'Atalanta Capito Non è La prima volta Che arriva là E l'Atalanta è una squadra Che arriva Ai quarti di Europa League E ora dovrà affrontare Liverpool Cioè non è più La Una squadre La principessa Non è più la sorpresa L'Atalanta è una realtà Affermata ormai da Sei anni E se ti posso dire Questo Gran merito Va a Gasperini Sicuramente Che è un allenatore Antifaticissimo Vabbè sì Però per allargare Un po' il discorso Ma Gasperini Se pensi Forse negli ultimi Dieci anni È stato forse L'allenatore Che ha rivoluzionato Un po' di più Cioè che ha portato Innovazione A cui hanno dato I meriti immensi Per quello che ha fatto A Bergamo Io non so Se sono da attribuire I meriti Totalmente a lui Direttamente a lui Però se tu ci pensi Questa filosofia Un po' Del Dell'esterno Che non gioca Da esterno Il 3-5-2 Sì Del braccetto Della difesa Che va ad attaccare A giocare Da attaccante aggiunto Della mezzala Che si sposta esterno È nata da Gasperini Anche questa squadra Molto verticale Quindi sì Per assurdo Con l'età che ha Cioè non è l'allenatore Più giovane del mondo È stato rivoluzionario Sicuramente Sì e poi C'è veramente Dicilanzi L'Atalanta Adesso si parla Di Atalanta Come club Comunque Di media alta Importanza Se comunque Ogni anno sta lì Se la lotta Per una posizione In Europa Manca quel Gradino in più Che non può essere Obbligatoriamente Vincere l'Europa League Perché ci mancherebbe Però la Coppa Italia È più che alla portata Dell'Atalanta Capito? No te dici L'Atalanta Può vincere la Coppa Italia O fino a dieci anni fa Ragazzi Tutti il rispetto Per i tifosi dell'Atalanta L'Atalanta Si doveva salvare Sì Sicuramente Sicuramente Però appunto Hai detto tu Fino a dieci anni fa Cioè sono passati Dieci anni nel mentre Capito? Quindi forse È arrivato il momento giusto Per spingere un pochino Di più Il piede Sull'acceleratore Secondo me Con un titolo Forse Ti potrebbe anche Chiudere l'era Casperini Ma anche secondo me Sì Direi che siamo arrivati Alla fine Anche perché poi Cioè Allora O diventa poi Ferguson Nel senso che Eh sì Perché Che fai? Eh Se no a un certo punto Basta Anche ma proprio Per la sua carriera Penso che Tu dici basta Proprio in genere No Forse un'ultima squadra Però Agli annetti suoi Comunque Non credo che sia così Non credo che sia così Vecchio Secondo me I 60 Avrà toccato Casperini E beh Ho capito 60 anni Ma pure per lui O Casperini Anche arrivi a tutti quelli Che ti hanno lanciato Eh 66 anni 66 Vabbè però insomma Con questi capelli Se li porta sempre bene Se li porta bene Vabbè 66 anni Se li porta bene Vabbè Staremo a vedere Insomma Staremo a vedere Mi sicuro dico Più favorita l'Atalanta In un ipotetica Ah ok Pensavo in finale In finale Con la Juventus Te dico Che lì sarebbe Cara secca Può succedere Di visto Sai che Aiuro quando sente Puzza di Di vittoria Di trofeo E l'ha dimostrato L'ha dimostrato Con la Lazio In Coppa Italia A proposito di Juve Ora ti leggo Queste Dichiarazioni Sulla gazzetta Di Di oggi Da parte di Massimiliano Allegri Sono da tanto Nel calcio E fa parte Del bello E del brutto Del mestiere Dell'allenatore Essere sulla graticola Quando i risultati Non arrivano E quindi Diciamo Lui si attribuisce Le colpe Di questi ultimi Due mesi Della Juve Giuntoli Ribatte Non la penso così È troppo facile Dare sempre La colpa All'allenatore Quindi da queste parole Insomma Si evince Che ci sia Una bella Coesione Tra La parte Della dirigenza Sportiva E l'allenatore Anche se da fuori Non sembra Si Te vedi Di nuovo Allegri Sulla pancina Allora Qua però O bleffano O Sono sinceri Da una parte Potrebbero bleffare Per mantenere L'ambiente Più tranquillo Possibile Visto che La Juve Comunque Quest'anno Ne ha passate Partendo da Pogba Fagioli E poi La crisi Degli ultimi Due mesi Insomma Come l'anno scorso L'esclusione In Champions E' anche Complicato Il clima Non sono Proprio Esattamente E se no L'altra alternativa È che Veramente Sono sinceri E Secondo me La domanda da farsi Anche Malligri Vuole Continuare ad essere L'allenatore Della Juventus Perché io non Ne so Così convinto Ha ricevuto Tante Secondo me Troppe critiche E riceve Sempre troppe critiche E' vero E magari Dietro la Juve Ci possono stare L'aspettative Però pure ieri I fischi Vabbè che erano Rivolte alla squadra Lui ha detto Comunque Non mi sono piaciuti Soprattutto i fischi Rivolte ad Alexandro Poi fa Cioè lui è Molto Pragmatico Cioè lui dice Il calcio è semplice Cioè la sua filosofia No Non è uno di quegli allenatori Un po' filosofici No Allora dovrebbe Vabbè che poi ce lo diciamo noi Dal Dal tempio dello sport Dal tempio È tutto dal tempio Però forse è vero Che alcuni principi tattici Magari andrebbero innovati Cioè soprattutto quando poi tu vai A vedere come giocano le squadre Di Tiago Motta Di De Zerbi Il Manchester City Guardiola Leverkusen Di Cioè Bialonzo Ma Cioè veramente Ormai tante squadre È un calcio molto diverso Rispetto a Ma secondo me anche al calcio Di cinque anni fa Si è innovato L'Inter di Inzaghi Che L'Inter di Inzaghi Attacca con Cinque giocatori Di cui due Sono i braccietti La difesa E E E Quindi Forse Una sorta di Innovazione Magari servirebbe Sì però secondo me Veramente critiche Cioè Comunque Allegri Anche troppo Anche troppo Troppo E Anche comunque Non era una situazione semplice Come lui ha preso la Juve Come si sono ritrovati Cioè pure l'anno scorso Quando stavano con La Beh ma c'è L'anno scorso anche C'è stato un vuoto dirigenziale Che ha dovuto tenere Tutto Tutto Allegri Sotto controllo E comunque anche la La qualifica in Champions League Di quest'anno Che si sta complicando Perché insomma Le squadre stanno lì Non è ancora sicura Però È vero che noi Dicevamo Che poteva puntare Io infatti Cioè su questo Non sono d'accordo Perché a forza di dire E l'obiettivo è la Champions La Champions La Champions Quando in realtà L'obiettivo era Lo scudetto E ora veramente L'obiettivo è la Champions E non è neanche più così Sicuramente E non è appunto L'obiettivo è la Champions E va raggiunto Vabbè Se non entrasse in Champions No Lì Lì sì Però capito Magari con L'entrata in Champions Che Al di là di tutto Per me Al 99,8% La Juve è qualificata In Champions E Con un eventuale titolo Vinto in Coppa Italia Il suo l'ha fatto Il suo 7,5,8% Alla fine Non aveva L'Europa L'Europa L'Inter di quest'anno Io sfido chiunque A Per battere l'Inter di quest'anno Oltre devi fare più dei 105 Che Forse il City Forse l'unica squadra Possibile No vabbè Il Leverkusen Che continua a viaggiare A questo ritmo Però Sono due Le squadre in Europa Capito No che poi ho detto Il City No neanche il City Quest'anno Può arrivare a quel livello E quindi Che poi stavo Vedendo l'aggressivo I punti del Milan Che è secondo A 65.000 Andando lo scudetto A questo punto Va a 66 punti Cioè Per dire Il Milan Sta viaggiando Comunque Ha una quota alta Cioè Non avrà fatti Sull'ottantina Ancora 24 punti In pa Quindi L'Inter può arrivare A 89,99 Sì 103 Esatto L'Inter può arrivare A 103 E soprattutto Sì Il record Mi sa che era Della Juve 102 Mi sa Sì Di Conte 102 Poi Considera però Che L'Inter Deve affrontare Il derby Contro il Milan In casa del Milan Ed è una gara Che può valere Lo scudetto Se la distanza Al momento Rimane questa E se si allunga Di due punti Cioè Se va dai 16 A 18 punti Di distanza Basterebbe un pareggio All'Inter Per vincere lo scudetto Quella secondo me Sarà una gara Infernale Capito Secondo me Sì Comunque il derby 70.000 Tutto piano In quel giorno Cioè penso Che abbiamo anche Il nostro regista Presente allo stadio E cioè La penso Con i nervi tesi Perché comunque È brutto Far festeggiare La squadra rivale In casa tua Si dovesse mettere In una situazione In cui l'Inter Sta in vantaggio Cioè Giocatori come Tornand Mi immagino Spulsi Si risuna Beh anche Che là Ti salgo Nermi Magari Vedi qualcuno Che si mette Ma è chiaro Però ti posso Dì che è bello Che c'è Nel senso È bello Come tu Poi sai Cioè A San Siro Immagina che deve Essere San Siro Il 22 aprile Vero 22 aprile Certo stavamo In Turchia In questo momento Una partita classica Da invasione Ecco 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 Bravo che hai tirato Fuori questo argomento Vogliamo parlare Del Fenerbace Ma che Ma che succede In Turchia Ci spostiamo un attimo In Turchia Così eh I nostri amici sportivi Possiamo dire che in Turchia Abbiamo trovato La copertina L'altra copertina In Fenerbace Saranno due anni Che succedono cose strane In Turchia In Turchia In Turchia Diciamo che però Si sente parlare di più In realtà Chissà da quanto In Turchia Sì No Beh comunque Io credo che Negli ultimi 10-15 anni Sia anche tanto Cresciuto il movimento A livello Anche più internazionale Comunque Per chi non lo sapesse Il Fenerbace Ha tenuto una votazione Allo stadio Se non sbaglio Sì sì Circa 30.000 persone Eh Eh non ricordo Un caro 20-30.000 Stavamo tra i 20.000 E i 30.000 Per Servivano Se non sbaglio Oltre 22.000 voti Ne sono arrivati 25.000 Per 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 votare Se appunto Il Fenerbace Dovesse o meno Uscire dalla Lasciare Il campionato turco È tutto un po' Così strano No aspetta Hanno le loro ragioni Cioè Quello che è successo Forse Hanno le loro ragioni È tutto così strano Nel senso No però effettivamente O il Fenerbace È come se fosse Una grande Cioè una big Sì Un Inter Una Juve Un Milan O in Turchia C'è Galatasaray Fenerbace Che si conoscono Vabbè Le altre Le altre Non tra le sport Sì Vabbè Però non è che Beh vabbè Però dai Besiktas Vabbè È una squadra Molto importante Tra l'altro È una squadra Che è l'unica Squadra turca Che sta ancora In lotta in Europa In conference Quindi insomma Ha fatto abbastanza Clamore Che è comunque Giocatori di rilevanza Perché c'è C'è Dzeko C'è Bonucci C'è Krunic Non ricordo Vabbè Però comunque Di Ersi Giocatori Sta facendo bene E infatti Il presidente Ha detto Aspettate Fino al 2 Quindi aspettate Fino a ieri Addirittura Comprare i biglietti Della supercoppa Che si dovrebbe giocare A breve E C'è Allora Però No infatti Come possiamo Riassumerlo Perché Io poi ho letto Che Potrebbe essere Solamente una decisione Rimandata Perché chiaramente Se ti ritiri ora Dal campionato E Diventa poi Un problema No Sì ma diventa Un problema Anche a livello Di calendario Perché poi In teoria Le squadre Che hanno giocato Contro il Fenerbahce Nel genere di ritorno Gli vengono tolti i punti Diventa Un bel casino Da sbrigare Potrebbe essere Semplicemente Stata rimandata La decisione A giugno Insomma Campionato finito Però Nel caso Fantastichiamo Nel caso Il consiglio Che poi non so Il consiglio dei soci Forse Perché Sì Pensa Pensate Decidesse Di Votare Favorevole Alla Lasciare Il campionato turco Dove Vedresti Il Fenerbahce Perché Perché Io leggevo Nella Leganne In Francia Perché Essendo 18 squadre Diciamo A livello A livello Di calendario Non si Non vai ad aggiungere Troppe partite Un bel Fenerbahce L'Orient Farsi Rimbarcata Per arrivare No esatto Che poi Il discorso È anche Quello Perché Diciamo Che I trasferti Sono impossibili Si rompe Tutto ciò A cui siamo Stati abituati Finora Perché Lo hai mai pensato Un campionato Con squadre Di paesi Esteri Stranieri E poi Neanche a dire Sei vicini La Turchia Sta lontana Eh sì Sono due orette Di viaggio In aereo Penso In serialo Vedresti bene No No ma più che altro Sarebbe strano Ma pure in Francia Ma in qualsiasi Campionato Lì È qualcosa Proprio da Vabbè ma in Turchia Devo un attimo Sistemare Secondo me Internamente Sono scene Che non Si possono vedere Però quanto sono Romantiche Quando vedi quello Con la bandierina Che è partito Ma hai visto il murales Che hanno fatto Che c'è il giocatore Del Fenerbahce Ora non ricordo il nome Che picchia il tifoso Gli hanno fatto il murales Con scritto Fight like your fans È bellissimo Quello è bellissimo Allora Contestualizziamo È romantico Solamente nel gesto Poi sono episodi Da condannare Assolutamente Anche perché comunque Rimanendo più Ma lì si tratta Proprio di sicurezza Come fai a permettere Tutto ciò Più esterni possibile Non è possibile Che una squadra Vinca E festeggia Centrocampo Tra l'altro festeggiamenti Neanche troppo eccessivi Insomma E venga accredita Dalle persone Che stanno sui Se no torniamo A Yuligans Ma poi quello Che lì parliamo veramente Di sicurezza Anche dal punto di vista Cioè mi fai 3000 controlli Prima di entrare allo stadio Ma adesso non so Come funziona in Turchia E poi una volta Dentro allo stadio Le persone Possono entrare Tranquillamente No infatti C'è una cosa del genere Tanto però sta pure Alla civiltà Vabbè Vabbè Sono discorsi C'è la civiltà No Non è così No E Sai che è che Allora diciamo L'Inghilterra ha avuto Questo fenomeno Questo fenomeno Negli anni 70 Negli anni 80 Ce l'ha avuto L'Italia Credo ce l'abbia avuto Anche la Germania Insomma E Proprio perché Magari in Turchia Il fenomeno del calcio Si è incrementato Si è sviluppato Più tardi No Effettivamente ora I maggiori episodi Avvengono in Turchia E in Olanda E pure in Olanda Anche in Olanda Ci sono stati Avvengono spesso Tanti Tanti disordini Però a quel punto Alla la soluzione Quella è Mantenere Che insomma Per un'annata Il campionato a porte chiusi Per mandare Però In Inghilterra Presero così però Eh ma Lo so Però la situazione Dell'Inghilterra Erano arrivati Che c'erano morti Ogni Ogni partita quasi Ah beh però Poco ci mancava No Sì però No sai che è Che non è giusto Che per il gesto Di Cento persone Pagano Trentamila Che vanno allo stadio Capito È un po' È un po' Il discorso Come il derby a Roma Che quando Siamo in scontri Sì O diciamo I I disordini Sugli spalti E l'ultimo Ci sono stati Lanci di fumogene E via dicendo E poi Non è giusto Che capito Che paga Che deve pagare Anche Due persone Che possono andare Come noi Allo stadio O un papà Con un bambino E via dicendo Una famiglia E via dicendo Capito Quindi Probabilmente Giocare a porte chiuse È la soluzione Definitiva A cui io però Non sto d'accordo Comunque Per allora Riassumere Cioè Per andare in conclusione Sul calcio Io direi Vogliamo vedere Le partite di questa giornata E vediamole Le più interessanti Perché vabbè Si parte da un Salernitana Sassuolo Emozionante Bello Guarda che Di sera che fai Salernitana Sassuolo Bello vero A questo punto Sti partiti diventano Emozionanti Capito quindi Però passiamo un po' Il sabato Con il derby di Roma Derby di Roma Sabato 18 Il primo di De Rossi D'allenatore Il primo di De Rossi Il primo di tutor D'allenatore Chissà 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 De Rossi Sa come lo figurare Eh perché Tu dici a livello di Beh si Io anche perché penso Comunque se tu fai Una carriera Come l'ha fatta De Rossi Come l'ha fatta Totti Cioè comunque Poi ci pensi Anche da giocatore Chissà se un giorno Magari io allenerò La Roma E si giocherà Il derby Anche perché Lo sai Con il Lecce Forse è stata la prima volta In conferenza E De Rossi È stato abbastanza Pizzicato No cioè C'è andato Eh ha pizzicato C'è appizzicato Cioè quel rigore Ma sai che Allora condivido un po' Su quel rigore Di settimana scorsa Il Lecce Condivido un po' L'idea che Se lo dai Non fai un torto A nessuno E se non lo dai Non fai un torto A nessuno Capito Cioè È un rigore Secondo me È anche un rigore Però per la dinamica Ci può anche Non stare E non darlo E lì torniamo Che a alcuni episodi Gli hai dati Gli altri Non gli hai dati Capito Quindi là è una linea Che va decisa Da tutti E roba sempre Eseguita quella Cioè anche la trattenuta Di Bremers Su Zaccagni In Serie A Ah no Ok L'hai vista? Vabbè Insomma Palla sulla destra Zaccagni entra in area Taglia sul secondo palo Bremers Si disinteressa Completamente Del pallone E lo trattiene In maniera vistosa Non è rigore Perché Diciamo che Il pallone Non andava in quella direzione Di Zaccagni In realtà Dal contatto Che c'è stato con Bremers Secondo me È rigore Però È un po' come Quello di Roma-Lecce Se lo dai Non fai un torto a nessuno Se non lo dai Non fai un torto a nessuno Insomma Dovrebbero decidere un po' Però Vabbè Vedremo un po' De rossi Chissà come andrà Questo derby Questo derby Secondo me è sicuro Più acceso rispetto a quello Te l'ha andata Vero Si che l'ha andata Molto molto Si perché anche in Casa Lazio Comunque al di là Della sconfitta In Coppa Italia No Mi sembra ci sia più entusiasmo E Potrebbe Nascere una bella partita Dopo tanti anni Un bel derby Sì È vero che è sempre un derby Sì sì È vero Quindi è una partita Un pochino a sé Però diciamo che ci sono Buone possibilità Di vedere Del vero football Del vero Football day Eh sì In quel di Roma Poi Il giorno dopo Vabbè Partite un po' Cioè Il nostro Frosinone Vabbè Che però ha fatto Un buon punto Un buon punto Con il Bologna Tosta 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 Poi avremo Juve Fiorentina Anche questa Anche questa Un po' Un classico Molto sottovalutata Torniamo al discorso Della Juve Che non è che Così scontata Qualificazione Champions Ma una Fiorentina Poi dovrà andare a Roma Cioè Nelle squadre E poi vabbè Lunedì si chiude Con Udine Seguinte Vabbè L'Inter passeggia Prende un'altra firma Verso lo scudetto Io spero che Lautaro Torna a segnare Perché Mentre per chiudere Ti volevo dire Che ho visto Che l'8 giugno Per chi vuole Alle ore 18 La nazionale svedese Ha organizzato Una partita con la Serbia Per festeggiare L'addio di Zlatan Ibrahim Con lui in campo Gioca lui L'8 giugno Alle ore 18 In Svezia Penso di sì Non ho letto Perché non c'ha scritto dove Ma c'ha scritto Che alle ore 18 Svegia e Serbia E mi sa che andiamo a vedere L'addio di Ibra Che serio Che comunque Guarda Ti posso dire Io insomma È stato in Svezia Ci andrei molto volentieri Soprattutto Per andare a vedere L'addio di Ibra Ma vogliamo passare un po' Allora Che dobbiamo fare Allora Diciamo che Inizia la terra sul rosso Però Prima di partire Cioè da Sinner ha vinto Quello e questo Che Che Hai diventato Un robot Ma Ma invece Pietrangeli Perché poi vabbè Sinner Tanto ne abbiamo parlato Tante volte Più che altro C'era una bella intervista E dopo parliamo Del suo allenatore Ok Pietrangeli Ha detto Che Che è un mostro Che è un cannibale E che batterà Tutti i record Effettuati dallo stesso Pietrangeli Tranne uno Quello della Davis Le vittorie in Coppa Davis Vabbè Pietrangeli Siete sempre senti Invece pare che Panetta Se sia più Panetta Ha capito che Vabbè ha capito Troppo forte Ha 22 anni Sì ha capito Che non c'è storia Insomma Vabbè ma lo sai Che c'è anche Perché ormai Cioè lui gioca Contro comunque Medvedev Numero 4 Dimitrov Che sta nella top 10 Numero 9 Cioè Inizia a giocare Con certi giocatori Che stanno nella top 10 E te vinci 6-3 6-1 6-2 6-1 Cioè nel senso Cioè pure loro No che se fino all'anno scorso Iniziano ad avere paura Dicono come se batte 6-1 6-2 E noi Che se fino all'anno scorso Vuoi o non vuoi Erano loro i favoriti E ora parte lui da favorito Cioè ora lui parte Da favorito Per la vittoria Del torneo Sì magari sai Sì magari sai Fino all'anno scorso Una partita con Dimitrov Poteva finire in 3-7 Una partita con Rublev Magari in 3-7 Cioè adesso Un giocatore Deve sperare Speriamo non mi fa 6-1 Nema mia Cioè lui parte Col break E proprio Senti invece Ti riguarda un'intervista Che C'erano Diverse Aspetti Che hanno toccato Però uno dei più Secondo me Belli è stato Cosa l'ha impressionata Di più di Yannick In questi due anni E l'allenatore Simone Vagnozzi Sì Ha detto Il rifiuto della sconfitta In qualsiasi situazione Di punteggio Crede sempre Di poter ribaltare Il match Eh ma è la testa Ragazzi Il rifiuto della sconfitta È tanto Perché comunque Ogni tanto capita Anche nella stessa partita Di tennis Che c'è quel momento E dici no Qua Qua non ce la faccio Non posso Invece no E poi Invece sulla terra rossa Perché è uscito fuori Il discorso Su un Sinner Che ha pochi punti Da difendere E Rispetto allo stesso Djokovic Ad Akaraz Infatti Secondo me A Roland Garros Ci arriva che è già primo E lo dico qua E lo dico qua Occhio Occhio Che non prima Ma perché Occhio Djokovic L'anno scorso La terra vinse Diverse i tornelli Sinner Fece male 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 Quindi se gli togli Quei punti O Djokovic Quei punti Gli devi togli Non è che A Sinner Non gli devi togli niente È chiaro Io dico Roland Garros Primo Il partito Da numero uno E vabbè Simone Magnozzi Dice La sua superficie preferita Rimarrà sempre il cemento Ma sul rosso Potrà ottenere Grande risultati E oggi Ho letto Da qualche parte È sul rosso Che si vedono I giocatori veri Ma lo sai Che è proprio bello Il rosso Adesso facciamo Il cemento Bello L'erba Sì è più elegante Però la terra rossa È proprio il tennis Ma sai che Se tu vai in giro E ti capita Di vedere Campi a tennis 99 su 100 Sono di terra Ma poi sì È proprio Scivoli sulla terra Sai a me piace pure Quando ti sporchi La fatica Che fai sulla terra Sì no Infatti Ti devo fare la classifica Il terzo È il cemento Guarda ti metto A parte Che sai che io Non ho mai visto Un campo Tennis In erba Credo Che a Roma Sia solo Il parioli Il parioli Vado a lavorare Ogni tanto A tennis Club parioli No no Lei è terra rossa Se è il tennis club parioli Io tutti quelli che ho visto Sono terra rossa Però lui considera Che dice Che stava verso pariola Adesso Vabbè Non lo so Non lo so Magari È approbabile Sì 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 Cioè Sì comunque Cemento a terzo posto Poi se la ruotano Un pochino Però appunto Cioè 99 campi Su 100 che vedi Sono di terra rossa Quindi Cioè se tu pensi Al campo di tennis Pensi a Al campo in rosso Insomma Sì e poi Sono partiti tutti i tornei Cioè Marra che C'è pieno di italiani Vabbè ma Cioè l'altra volta Stavo vedendo la classifica Tipo ormai C'è un via uno dietro l'altro Ma Nardi Ha vinto Napoli Nardi ha vinto Napoli Che poi Sarebbe da fare Veramente Da Da parlare Su quello che è successo A Napoli Perché Perché giocava Se non mi sbaglio Gigante Vabbè adesso non mi ricordo Il nome E stava contro il Berte Ha avuto 7 Match point Ok E solamente Tutti lo fischiavano Nonostante lui fosse Napoletano Perché si erano giocati Tutti il Berte E quindi lui A fine match Ha perso Ha fatto un post di sfogo Ha detto Comunque grazie A tutti quei tifosi Che sono venuti E mi sono venuti a fischiare Sono felice Tipo che hanno vinto Così Però lo sai Cioè pure questo Cioè Secondo me qua Cioè Non puoi andare a Fischiare Lo sai che Qua si tocca Un grosso problema Che me l'hanno raccontato Che la gente va là Per giocare Lo so Però lì diventa Veramente Troppo Eh certo Cioè Finché ci sta Che magari Non lo so Ti vuoi divertire Con un amico tuo Ok Però se vai allo stadio Comunque ti va a vedere Cioè quelli sono sportivi Sì Ma poi una vittoria Gli potrebbe cambiare Tante cose Sì ma poi Cioè veramente Ti ti puoi mettere lì Cioè lì sei mezzo malato No ma è come se Se allo stadio Ti Cioè fischiassero Perché si sono giocati Ma poi è una scena Un po' di brutta Oppure ha vinto Sempre a Napoli Non vince lo sport Comunque Capito Sempre a Napoli Ha vinto una partita L'ha vinto questo giocatore francese Antipaticissimo Vabbè E si è messo a fare le sostanze Dei soldi No Tutti quelli che vincono Qua a Napoli No perché Sì 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 Vabbè Comunque sì dai Siamo entrati nella Ufficialmente nella Terra Rossa E meno male Bella stagione Te sei contento Ti vedo bello carico Questa Terra Rossa Ti vedo proprio Sinner numero uno Entro Parigi E per chiudere la puntata Yes Ci sta l'ultima notizia Ti volevo dire Che il prossimo anno Si terrà la trentennale Della Maratona di Roma Ah E quindi stavano un po' Parlando dell'organizzazione Di come si può Perché è poi l'anno del Giubileo Esattamente I voli costeranno molto di più Sono previsti circa 40.000 persone E stanno pensando a una rivoluzione Ovvero far passare le persone Dentro a Colosseo Dentro? Allora adesso non si è capito bene come fare O dentro oppure sotto all'arco di Costantino Che è visto che è inaccessibile E c'è stata solo un'occasione In cui si è passati sotto l'arco di Costantino Ed è stata l'Olimpiade degli anni 60 a Roma Che fu la prima trasmessa in televisione Pensate Storia e cultura Oh le chicche storiche che diamo qua Non ve le dice nessuno Storia e cultura al tempio Va bene va bene Allora grazie per questa chicca Grazie a te Molto storica Molto preziosa Fresca Fresca Oggi siamo freschi Allora ringraziamo la regia assolutamente Come sempre E appuntamento torna settimana prossima Ricordiamo ancora una volta di seguirci ovunque Instagram TikTok Se volete ci ascoltate su Spotify E poi mi raccomando iscrivetevi al canale YouTube E niente dai mandiamo la sigla Bye Ciao Amici esportivi